Due campagne civiche sono state presentate questa mattina a Palazzo San Giacomo dal sindaco De Magistris e dall'assessore all'ambiente Sodano, col sostegno dell'attore Patrizio Rispo. La prima, Bastardo a Chi, ricorda che ogni anno 120.000 animali domestici abbandonati muoiono in incidenti stradali. L'abbandono di un animale è un atto crudele e degradante e configura un reato punito dalla legge con l'arresto e con una multa fino a 10.000 euro La seconda campagna invita i proprietari dei cani ad aver cura dei marciapiedi raccogliendo lo sterco depositato dai loro animali. Un'ordinanza del sindaco dello scorso 7 maggio dispone che chiunque porti un cane in spazi pubblici, strade, marciapiedi o aiole debba avere con sé il sacchetto e la paletta. La mancanza di questi strumenti può comportare una multa fino a 500 euro, come ovviamente il fatto di lasciare il suolo pubblico sporco Io credo che bisogna innanzitutto far crescere sempre di più in questa città e lo stiamo facendo in tutti i settori, un senso civico, una cittadinanza attiva Siccome tutti i cani devono essere microcippati, devono essere riconosciuti all'anagrafe, obbligo di legge attraverso il deposito del DNA, quindi una banca data del DNA dei cani registrati nella città di Napoli partiamo in una municipalità, si può risalire al proprietario del cane che non ha seguito un comportamento adeguato Anche il maltrattamento degli animali è una condotta esecrabile e punita dalla legge Il Comune di Napoli invita i cittadini che vogliono segnalare abusi su animali oppure lo smarrimento o il ritrovamento dei cani a fare una segnalazione all'indirizzo email tutela.animali.comune.napoli.it